La manovra del top popolo è diventata la manovra contro il popolo. Quando un governo aumenta le tasse al volontariato, colpisce i pensionati, non merita il consenso dei cittadini. Attaccare chi aiuta i più deboli è veramente inaccettabile e indecente. È una vergogna che deve essere cancellata. È preoccupato Antonio Tajani. Il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia è stato a pranzo alla vigilia di Natale, come da tradizione a Trivigliano, nella comunità in dialogo di padre Matteo Tagliaferri. È una di quelle che pagherà il prezzo dell'aumento della pressione fiscale sul settore no profit. Eppure padre Matteo viene preso come esempio in tutto il mondo. La comunità di Trivigliano ha una serie di consorelle in dialogo in Argentina, Perù, Colombia, Ucraina, Africa. Antonio Tajani è preoccupato anche perché l'aumento dell'imposizione sul no profit è solo un aspetto. C'è poi quello che colpirà Fiat Chrysler con l'ecotassa che andrà a gravare sul 90% dei modelli a benzina prodotti a cassino. Purtroppo aumentano le tasse sulle auto, aumentano le tasse sulle imprese. Non c'è nulla che aiuti la lotta alla disoccupazione. Ecco perché questo governo deve andare a casa il prima possibile. Non stata la parte del popolo è contro il popolo. In Parlamento continueremo a dare battaglia. Ci opporremo anche alla Camera, così come ci siamo opposti, al Senato contro una manovra vergognosa. Ripeto, è una manovra che non è la manovra del popolo, è la manovra contro il popolo. Prima di accomodarsi a tavola con gli ospiti della struttura, che da anni si occupa del recupero e del reinserimento di tossicodipendenti, Antonio Tajani ha ricordato che la guerra all'Europa e la continua rincorsa tra i due vicepremier a colpi di proclami roboanti e promessi realizzabili, è costata molto cara a noi italiani. Ha detto, abbiamo bruciato 300 miliardi, tra fuga di investitori, trolli in borsa, depreciamento dei titoli di Stato. Nel corso del pranzo c'è stata la tradizionale telefonata di Silvio Berlusconi, ha esortato gli ospiti di padre Matteo a impegnarsi sulla via del recupero.